La signora Lella che mi ospita in questa sua trattoria che è all'isola Tiberina, un posto incantato che tutti conoscono, io spero, è la sorella di Aldo Fabrizio ed anche se lui lo non vuole ammettere, cucina meglio di lui. Come un bel dì si vede dal mattino, una buona cucina inizia dal mercato, per questo ogni mattina e di ogni santo giorno la nostra Lella va a Camponefiori, dove tutti la conoscono e lei con scuporoso amore, squisita gentilezza ed una ostinazione in verosimile, si rende conto personalmente della qualità e del valore quasi alchimistico direi degli ingredienti della sua cucina. Permesso? C'hai i peperoni buoni, Gigi? Ammazza, meglio di questi. Fammi un po' vedere quella cassetta là, ti mi piace. Che, questi sono speciali. Fammi un po' vedere. Che, questa è una cosa extra. Eh, ma mica tanto. Ammazza, meglio di questi. Ma ma ho paura che so quelli a tre punte, che pizzo. No, questi sono smelati, dolci, dolci. Voi dovete stare attenta che quando vi arrivi i peperoni non so a tre punte perché tant'altro possono pizzicare. No, non pizzico. Non fanno che uno fa un piatto inreparato, che pizzica, buttamo tutto. No, no, no. C'è se beve più vino. Fammi un po' vedere. Ma il vino ho be... No, sono smelati, sono dolci. Sono dolci, dolci. Ma faccia quanto c'è dolci. Ma faccia quanto c'è dolci. Ti ho detto. Si tolgono. Eh, mi dammi 3-4 chili, vado. Sì, più a questi qua. Oggi voglio fare una ticamata che viene di vino. Vediamo tu. Ti volete che vi capo io. Guardate quanto so belli. Ecco, guardate quattro pinte, vedi? Sì, sì. Proprio belli, vado. Ma sono speciali, con gialli e rossi, sì. Perché poi ci fanno grazie, grazie. Perché quando uno li taglia si sente belli morbidi. Perché sennò sono secchi, secchi. I gocci... Arrimadano tutte gocce. 150 chine piantino qua. La palena 150 chine. Se il verde dello smeraldo s'accorda alle donne bionde ed il verde del mare s'unisce al cielo cinestrino, il verde del peperone si marita col rosso del pomodoro. Peperonata. Dammi un po' un chile e mezzo desti peperoni. Ci voglio fare la peperonata. Un chile e mezzo, eh? Sono buoni solo che fa la peperonata. Mi dai un po' di basilico, cipolla e pomodori. Ecco tutto l'occorrente che ci voglio. Sì. Che faccia la peperonata, dietro. Oio, cipolla e pomodori e basilico dietro. Ecco, va tutto un peso. Pesa, va, dagli un po'. Ah già, che mi dai un bel pollo? Sì. Però da un po' ruspante. Fammi vedere questo. Fammi vedere i gambetti che ruspano. A me pare bello questo pollo. Quando dovete comprare un pollo, guardate che qui sotto è sporco e ruspano. Perché sennò non è buono, si stacca dall'osso e non vale niente. Per esempio, questo pollo si può fare alla diavola. Cioè, si spacca bene, poi si pista, si pesta bene, si acciacca tutto. Lo mettete in padella con olio, sale e pepe e lo fate bene l'osolato. Piano, 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 piano. Con i pesi proprio importanti è che mettete i pesi sopra. Quando è bello l'osolato ci mettete limone e vino. Fate ritirà sto vino. Quando è bello proprio croccante lo mettete sul piatto, lo servite a tavola, è una delizia. E' inutile assolutamente dire che il tema delle variazioni di signora Lella sono i peperoni. In quante maniera si possono fare i peperoni? In mille modi. Ma mi sembrano tantissimi i mille modi. Guardi, adesso vi farò vedere io proprio in mille modi. Guardi, si prende un peperone, vedi quanto è bello? E si mette qui sopra i fornelli. E diventa così. Poi questo si spela. Si deve spela tutto, bene, bene. Attenta a non lavarli perché sennò perde il sapore. O quando sono belli puliti diventano in questa maniera qui. Guardi, sono i pittecchi. E questa cosa sarebbe? Questi sarebbero peperoni all'olio. Guardi che bellezza. Grassi rimangono proprio belli, porfusi quando uno li mette in bocca. Sono proprio buoni. Adesso vi faccio vedere un'altra ricetta. Insalata di peperoni. Siamo a una, dobbiamo arrivare a mille. Ma ci arriveremo, lei non abbia paura. Ci arriveremo. Si prende un peperone, guardi. Si pulisce bene, si lava, si fa bene a pezzetti fini fini. Così. Ecco. Si mettono qui. Anche pure un po' di verde perché fanno un po' di colore. Si fanno di colore. Eh si, sono bellissimi questi verde. Guardi. Fini fini devono essere, eh. Che sennò danno un po' fastidio. Quando sono tutti belli, ci si mette sale, pepe e olio. Pure questi sono una specialità, una delizia. Ma sempre di insalata si tratta, dico. Ma no, ma non è insalata. Voi vi faccio vedere un'altra ricetta, eh. Guardi, sempre con i peperoni gialli e che siano sempre a quattro punte. Se prendono il peperone, si spacca per benino, per mezzo. Si pulisce. Poi, questa è carne drita, guardi. Ci si mette un uovo, un po' di parmigiano. Si. Poi, sale, pepe. Scusate che io faccio con le mani, ma a me piace così. Perché è una cosa che viene sempre meglio. Oh. Poi, se prendono questi peperoni, ci si mette la carne per bene, messa bene, piena. Bene, così. Ma dico questo, ma questo qui mangiare sostanzioso, dico, è una specie di secondo questo. E' un secondo. Ah, è un secondo. E' un secondo molto sostanzioso, buonissimo. Come si risolve questo piatto qui? Aspetti un momentino, ci si mette il sale. E dai questo sale. Olio. Olio. Oh. Ma poi dove si va? Si metterà al forno. Ah. Aspetti un momentino, poi vi faccio vedere, perché c'ho altri che non fatti prima. Vabbè. Vediamo. Guardi. Guardi che bellezza. Belli, belli. Adesso vi faccio vedere il piatto forte, cioè il pollo alla romana. Oh. Alla romana si fa così. Questo è il pollo alla romana, è il pollo più forte che esista a Roma. Proprio è una cosa tradizionale che si dice, ok, non ci porti a maniare. E il pollo fatto con i peperoni alla romana. È speciale. Ma io lo faccio vedere. Non è mica l'unica maniera, sa, da fare il pollo quello lì. Che? Sì. Tu già hai un libro qua da tanti anni che non mi ricordo, ecco. Sì. Ci sono migliaia di maniere, tra gli altri anche una magnifica maniera storica. Perché? Quando Napoleone, adesso non ricordo bene le date perché io sono un po' sorrampito, sa, io bevo molto. Quando Napoleone... Aspetta un po', aspetta, aspetta, aspetta. Ecco. Pollo alla Marengo si chiama. Secondo la tradizione, questo pollo fu servito per la prima volta la sera del 14 giugno 1800 in un'osteria di Marengo a Napoleone, buona parte, dopo la sua vittoriosa battaglia contro gli austriaci. Vuoi sapere come si fa? Attenta. Tagliate a pezzi il pollo, soffringetelo con 15 grammi di olio, 50 di burro, una piccola cipolla, mezza carota, un poco di sedano tritati, rosolato che sia, cospargetelo con 10 grammi di farina e poi bagnatelo con un bicchiere e mezzo di pollo, così fa una specie di cremettina, capito? Regolato di sale e pepe, lasciatelo cuocere con fuoco sotto e sopra oppure al fondo. Infine, sgrassate il fondo della scasseruola con due cucchiaiate d'acqua fredda, la cosa è squisita. Passatelo a setaccio, rimettetelo un momento sul fuoco e spandetelo sopra i pezzi di pollo già disposti sul piatto di portata. Hai sentito che pollicino? A me non mi piace. Tu non ti piace? No, no, no. Se non l'hai mai mangiato ormai non ti piace? A me il pollo mi piace fatta la romana, fatto con i peperoni e sin Napoleone veniva a Roma. Il Napoleone mangiava il pollo che gli facevo io, sta tranquillo. a Roma, ora ti faccio vedere come lo faccio. Ma non ti arrabbi, non ti arrabbi. Ma che accenda? Ma ti dice il pollo alla mareca. Ma che lo conosce questo pollo alla mareca? Ma non ho offeso lei nei polli di cosa lo fa? Ma lei ha fatto Roma? Eh? Perché a Roma si mangia così. Ma a Roma sono venuto da 15 anni e mi sto benissimo. Ma no, ma a Roma si mangia il pollo per carità la romana. Ma che senza? Ma per carità. Mi faccia nervosia eh? La sfonda tutto Maria Vergina. Si sfondo tutto perché quando mi si parla di cucina divento idrofuma. Ma lei mi fa paura con quel cortello in mano? Ma che fa niente, poi gli faccio vedere io come si fa il pollo. Io intanto bevo un gotole lì. Si si bevano qui padre. Ma gli faccio vedere io. Mi spieghi bene però. Mi spieghi bene. Lei taglia il pollo a pezzi. Poi lo mette sul fuoco. Ci mette sale e pepe. Ed aglio questo pepe. Oh, è sempre il pepe. C'è l'olore. Il pepe è stato bene dappertutto. Poi lo fa bene rosolato. Benissimo. Oh. Quando è bello rosolato, lei ci mette una bella schizzata di vino. Fa gli dirà, bel sto vino bello che proprio viene il pollo con il panico. Questo mi piace. Proprio dorato. Quando che il pollo è dorato mettete giù il pomodoro. Fate coce bene sto pomodoro. Bene. Quando è bello fritto, fritto, fritto vi è sto pollo che è un amore. Un amore proprio che è un... Io poi proprio dicono tutti che sto speciale a far polla romana. A modesti a parte è proprio così. Questo poi lo dirò io dopo. Oh, poi siccome per raggiungere il pollo con i beveroni io faccio tutto a parte. Cioè, prendo i peperoni, li faccio a pezzi, li metto dentro in una teglia, ci metto olio, cipolla, pomodoro... In quella teglia lì. In quella teglia lì. In quella teglia lì. Oh. Poi dopo, quando il pollo è cotto, si luisce insieme ai peperoni, si cucina bene, menanti cinque minuti sopra ai fornelli. Bello, bello ammaganato, proprio tutto bello rotolato. In maniera che... Ma quando v'è pronto il pollo con i peperoni, ma sentirete che... Ma senta... È una cosa proprio straordinaria. Ma io ho messo intanto, sarà che la cucina a me mi piace tanto. Ma senta, 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 senta lei la... Che dici? Ma dico il... Non mi interrompa quando parlo di cucina perché io devo essere matta. Ma dico io, lei è qui per spiegarmi, dico se non mi dà... No, ma lei... Ma se non mi dà il diritto di fare delle domande cosa faccia... Ma no, lei mi fa napio perché lei è... È padovano, da che... E perché la dica perché uno padovano non può fare una domanda... Ma no, ma lei non ci piace da mangiare... Ma lei, ma lei in cucina... Avremmo litigato prima in cucina, però mai dato da mangiare in una maniera straordinaria, veramente... Ho visto. Le variazioni che hai fatto su questo tema sono come quelle di Brahms, una cosa importantissima, veramente... Una cosa straordinaria, senti caro. Però ho paura che... Non sono pesanti questi qua, non sono... Ma per carità, i peperoni basta cucinarli con pomodoro e olio, poco olio, sono digeribili, straordinari proprio. Per ogni modo sai, siccome io sono già su quell'età un po' difficile, è meglio che tu mi offra un amaro per mettermi al tranquillo, sicuro... Vedrà che... ...per non avere alcuna sorpresa, eh. Sarai tranquillo. Oh brava Nella, tu sei la mia salvatrice, mi hai dato gioia e salvataggio... A salute. A la tua! 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 Grazie.